Basta di un pochino. Vai. Salvini Benedetta, P21, qualificazione di Roma Trotown, Scalido. 2018. Judge Francesco Fiorenza. Dopo vediamo il bilanciere. Ok. Quando sei pronta hai 3 secondi dal momento che mi dai l'ok. Preferisci la musica? 3 secondi dal momento che mi dai l'ok. 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 5 secondi dal momento che mi dai l'ok. 8 secondi dal momento che mi dai l'ok. 9 secondi dal momento che mi dai l'ok. No, no, no. ho fatto il 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 E' un'altra parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no aspetta aspetta dobbiamo far vedere bilanciere un attimo al volo saluta